La società ha sostanzialmente rappresentato la filosofia politica di investimento che si vuole fare e ha ribadito concettualmente che ci sono delle aree tematiche sulle quali bisognerà fare dei tavoli tecnici di approfondimento. Quindi direi, io la vedo come un fatto assolutamente positivo, una giornata di avvio, insomma oggi abbiamo spinto la nave a partire. Poi dobbiamo capire un attimo se all'interno di questo percorso tutti sposiamo questa nuova filosofia del piano industriale che può dare un progetto futuro di medio e lungo periodo, così come hanno detto i rappresentanti di A2A e di Edipower. Ove così non fosse mi è parso di cogliere in una dichiarazione all'interno della quale si è detto che in alternativa non c'è un altro piano industriale, cioè o cerchiamo di costruire questo percorso insieme oppure probabilmente si prenderanno decisioni diverse. Grazie a tutti.